Sì, sono perfettamente d'accordo, abbiamo preso gol da polli, su un fallo laterale non si può concedere all'esterno del Bisceglie di prendere palla a mezzo a quattro persone e mettere la palla a centro. Un peccato perché abbiamo preso il primo gol subito a freddo all'inizio del secondo tempo, dopo un primo tempo a mio avviso molto ma molto equilibrato, dove penso l'unica occasione vera l'avevamo avuta noi con Marino, anche se il Bisceglie aveva avuto una buona superiorità a livello di possesso palla e anche di tiri, più che in porta verso la porta, perché Gravagnone il primo tempo non ha fatto interventi di rilievo. Il secondo tempo poi siamo, a differenza delle altre volte, abbiamo reagito da squadra contro una grandissima squadra dichiaratamente costruita per vincere il campionato, siamo riusciti a pareggiare con un bel gol di Marino e poi l'ingenuità imperdonabile che ha permesso al Bisceglie di andare avanti ci ha un po' condizionato. Fortunatamente Secum si è ricordato di essere Secum e ha fatto quello che più sa far bene il gol su punizione e ha portato questo punto fondamentale che potrebbe sembrare una magra consolazione ma in un periodo difficile come questo, in una situazione di classifica deficitaria, in un periodo in cui non ci riesce nulla e manna dal cielo. Per domenica prossima? Siamo arrivati a calcare palcoscenici ben più importanti come è successo l'anno scorso qui da noi, però dobbiamo calarci in questa nuova realtà, speriamo che possa essere la nostra realtà per poco tempo ancora. Mister, un ottimo pareggio per il suo Bisceglie, ma al novantesimo possiamo dire che la sua squadra ha qualche rammarico? Sì, c'è tanto rammarico perché non soltanto il gol subito con una deviazione, concedere quella punizione centrale è un mezzo di rigore per Secum alla fine, ma non ne so qual è rammarico. Ci sono tantissimi dubbi su quella punizione prima di tutto perché voglio rivederla, ma poi dobbiamo chiuderla e forse c'è mancato un po' di cinismo da davanti, un po' di cattiveria se chiudevamo la partita è chiaro che non concedevi praticamente nulla poi alla squadra. Poi si sa benissimo quando loro buttano questa palla in mezzo là e loro hanno anche dei grandi saltatori perché Alexic e Gasparini sono due che ti possono risolvere la partita, sfruttano soprattutto la loro fisicità, è difficile poi, è chiaro che qualche errore lo puoi anche commettere. Io ho messo un terzo centrale difensivo che ha anche lui fisicità, ripeto questa palla buttata là in mezzo con tantissimi dubbi abbiamo concesso praticamente un rigore a Secum. Però penso che la squadra abbia fatto un'ottima gara, sin dai primi minuti abbiamo attaccato il Francavilla, io non ho visto tiri in porta molto pericolosi dalla squadra avversaria, noi abbiamo avuto 3-4 occasioni con partipilo. Poi nel secondo tempo dopo aver fatto gol, subito un gol, potessi che poteva tagliare le gambe un po' a qualsiasi squadra, invece abbiamo reagito come se non fosse successo nulla e niente. Prendiamo questo pareggio come un trend per continuare su questo trend positivo, però rimane rammarico di aver lasciato due punti. Rimane comunque un'ottima stagione quella che il Sobiscelli sta disputando? Sì, noi stiamo facendo un'ottima stagione, siamo partiti un attimino anche in ritardo, però stiamo cercando di recuperare questo gap sotto tutti i punti di vista man mano che giochiamo. È chiaro che commettiamo ancora qualche errore che può darsi partendo prima, lavorando ancora di più, potremmo anche evitare. Però stiamo lì a lavorare durante la settimana per cercare di migliorarci, perché c'è ancora molto da migliorare. Questa è una squadra che ancora si deve esprimere al 100%. Oggi qualcuno si è andato poco in settimana per le condizioni fisiche non ottimali. Abbiamo avuto anche una Coppa mercoledì, una partita molto tirata fino ai rigori con la Nocerina. Dovevamo pagare qualche cosa, però, ripeto, volevo pagarne in altre maniere. Invece potevamo pagare sull'aspetto fisico, non penso, perché fin dall'ultimo abbiamo retto. L'abbiamo pagata su questo errore che sicuramente ne parleremo martedì. Forse ci siamo abbassati un attimino un po' troppo e quello ha consentito loro di trovarsi poi quasi sempre sulle palle alte vicino all'area di rigore. Forse questo è l'unico errore che abbiamo commesso negli ultimi minuti. Tra l'altro tra dieci giorni affronterete nuovamente il Francavilla, questa volta agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sì, incontreremo di nuovo questa squadra. È chiaro che sarà un altro tipo di partite, perché è una partita unica. Intanto prepariamoci a domenica e poi l'altra settimana provvederemo in pochissimi giorni a preparare questa partita.